Ciao ragazze belle, come state? Benvenute in questo mio nuovo video. Oggi vi parlo del pacchettino da notino che fa anche rima e rido solo io, ma a me non importa come al solito immagino di ridere solo io delle mie battute pessime. Ok, allora oggi appunto vi voglio parlare di, rimaniamo sempre in tema Natale, di quattro bagnoschiuma, due un po' più economici, due un po' meno, che sono però degli ottimi pensierini appunto per il Natale che sta arrivando. Allora, iniziamo subito da due bagnoschiuma che ha preso il mio papà che quando vuole farsi un regalo non va da spese e parliamo di due bagnoschiuma tratti dai profumi Bleu de Chanel e Fahrenheit di Dior. Allora, lui ama questi due profumi, dovete sapere, li adora, solo che essendo pasticcere e pasticcione non indossa il profumo a lavoro, ovviamente, perché immaginate se no che è mix tra profumi di dolci, profumo suo, insomma se tutti si mettono il profumo non escono più da lì. Quindi, utilizza questi bagnoschiuma che vi assicuro profumano tantissimo, rimangono addosso nel corso della giornata, quindi non va a perdersi il profumo che rilasciano e sono veramente veramente validi. Sembra di essersi spruzzati il profumo senza però averlo fatto, quindi c'è un impatto ovviamente un pochino meno aggressive rispetto al profumo vero e proprio. Allora, iniziamo, dunque, questo è un 200 ml, al momento è scontato, se non sbaglio viene 40, sempre su appunto notino, e quindi andate a vederlo, insomma, visitare il sito. Ecco, allora, lo apriamo, la boccetta è proprio come il profumo, questa però è in plastica, quindi non c'è problema, lo si può mettere appunto in doccia, scusate che c'era luce, ecco che non lo fa vedere bene, lo si può mettere in doccia tranquillamente, se non si è troppo delicato, diciamo, va bene lo stesso perché non si rompe, è comunque, nonostante sia in plastica, elegantissima, io la trovo veramente elegante, qui sopra abbiamo il logo e si apre da qui, quindi vedete, non so se riuscite, ecco qua così, vedete che lì si apre ed esce proprio da qui, quindi è anche molto pratico, è molto molto bello. Adesso io lo annuncio con voi, che buono, vorrei potesse sentirlo, vabbè, Bleu de Chanel è veramente meraviglioso, quindi è buonissimo, è buonissimo veramente quanto il profumo. Quindi appunto abbiamo detto, siamo intorno ai 30 euro, è comunque un ottimo pensierino, secondo me, pensierone, però è davvero ottimo, anche perché magari, cioè se sapete che più o meno può piacere il profumo, che magari però è un po' più personale, di sicuro il bagnoschiuma sarà ugualmente apprezzato, secondo me, se più o meno sono i gusti di quella persona, questi tipi di profumi, secondo me il bagnoschiuma è azzeccatissimo. Quindi questo è uno, adesso scontato ve lo ricordo, quindi andate nel caso vi interessi a vedere. L'altro è Fahrenheit di Dior, anche questo meraviglioso, stesso discorso dell'altro, boccettino sempre in plastica, vedete, è bellissimo perché di un colore rosso, sembra un po' un rosso sangue, poi dal vivo è ancora più bello, io lo trovo veramente stupendo. E anche questo lo apriamo, vedete, da qui, meraviglioso che ve lo dico a fare, si sente proprio, sembra proprio il profumo, vi dico, è veramente veramente valido. E questo viene, se non sbaglio, sui 40, adesso non ricordo bene, i prezzi non è scontato, comunque questo mi sembra controllato e non lo è adesso. L'altro sì, di Chanel sì, comunque insomma tra tutte e due circa un'ottantina di euro li ha spesi, quindi sì, non sono proprio economici. Però comunque considerate che durano tantissimo, nel senso che lui poi ha detto che, lui mi raccontava che ovviamente non è, ma io anche faccio così se ho dei bagnoschiuma comunque di marca, di profumi importanti, non è che uno si fa, cioè se ne mette un quintale, nel senso che magari uno usa un altro bagnoschiuma e poi sopra ne usa questo qui, insomma, per andare proprio a dare il tocco di profumo. Quindi ecco, dura un bel po', durerà sicuramente un bel po', anche perché sono, se non sbaglio, anche questo è un 200ml, adesso controllo. E un 200ml anche questo, quindi ragazzi, tra questo e questo, a voi, insomma, a farlo andare, dura veramente un bel po', ecco. Poi abbiamo questi due di Dermacol, questi qui gourmand e ne abbiamo uno all'arancia e cioccolato, cioè arancia e cioccolato belga, profumo, cioè viene voglia di mangiarlo veramente, qualcosa di gustosissimo. E l'altro? Mamma mia, questo da sfalmare sul pane, cioè, io poiché sono una golosona, vi lascio immaginare. Questo è al Macadamia Truffle, sapete i tartufini, quelli cioccolatosi, buonissimi? Ecco, sa di quello, io non vedo l'ora, non li ho ancora provati, ho aspettato di fare questo video e li proverò e vi faccio sapere, perché sono due gourmand che sto già amando adesso. Quindi ragazzi, spero che vi siano piaciuti, un mini, insomma, delle mini info su questi bagnoschiuma, teneteli davvero presenti per fare appunto qualche regalino e vi mando un bacio, al prossimo video, ciao! Ciao! Ciao!